Ciao! Allora, altra apertura di altre quattro bustine di Cake Pets. Allora, vediamo un po' chi è. È Snowball, molto carina. Ha una cremina verde con un cuoricino sopra, è un dalmata. Ha questo cupcake, questa parte rosa, con dei quadrifogli, non so, vabbè. È aperto così, molto carina. E c'era versione rosa o rossa. Io ho preso quella rossa, che però qua è più, vedete, è più sul rosso. Vabbè, qua sembra rosa, ma in realtà è rosso. Ma, vabbè. Seconda bustina. Uno nuovo, che bello. Questo qui è... Vediamo. Cocco, credo. Aspetta. Sì. Sì, perché... Sì, esatto. La versione verde. Cocco. Carina. Non sa di cioccolato, però. Perché coco... Però lì, coco potrebbe essere cocco. Non sa di cocco neanche, vabbè. Comunque, penso sia un cagnolino. Ha questa cremina verde sopra, col fiorellino. E è aperta, è così. Oddio, che carina. Ha questo vestitino verde. Molto carino. Terza bustina. Terza bustina. Terza bustina. È quella che ho preso adesso. Diciamo che è la seconda versione, però, praticamente, sono la stessa. Per cui, vabbè, questa qui magari la scambierò sul gruppo, su uno dei due gruppi. Ok. Ultima bustina. Vedo se riesco a trovare... Vedo se riesco a scambiarlo con magari questa qui che è... Vabbè, adesso vediamo cos'è questa. Perché dal più... No, ok, questa è nuova. Che bello. Che carino. È carinissima. È un cagnolino. Ha la cosa viola. La cremina viola. Ed è... Vediamo un po'... Aspettate. Ah, ecco. Mia. Sì. È mia e ho beccato la versione con la gonna azzurra, blu. Che carina. È un cagnolino, sì. Penso sia uno... Un New Yorkshire dal tipo di muso. Ed ha le orecchie. Carina. Ok. Direi che questa qui che ho doppia o doppia, insomma, che ho la versione, diciamo, alternativa, la scambierò con questo, con Barry. Con Barry, perché mi piacerebbe avere... Lei. Ciaviato, capriolo, quello che è, insomma. Ok. Allora. Allora, al prossimo video. Ciao.